Perché in questa vicenda, secondo me, ci sono tre fatti che non possono essere scissi. Il primo fatto è che abbiamo due donne, in questo caso due zingare, ma il ragionamento varrebbe uguale se fossero due cittadini italiani che tentano di rubare, quindi tentano di commettere un reato. Poi ci sono due lavoratori... Si chiama la polizia di solito, a volte non ci si mette a gente nelle gabbe quando uno tenta di rubare. Dopodiché, visto che si sono criminalizzati i due lavoratori, i due lavoratori fanno quello che una norma del codice di procedura penale consente, cioè una norma che consente ai cittadini di poter arrestare e fermare chi commette un reato con l'impegno però di consegnarlo alle forze dell'ordine in tempi rapidi, del motivo per cui secondo me non c'è il reato di sequestro di persone. E poi c'è il terzo elemento che è il video che viene riportato su Facebook e quindi su social network e quindi su questo secondo me si può aprire il dibattito, però credo che il dibattito sia assolutamente slegato rispetto al furto e rispetto al sacrosanto diritto di due lavoratori. Io mi chiedo se i due lavoratori non avessero fermato le due donne, che cosa sarebbe successo ai due lavoratori? Quindi io credo che i tre elementi vadano tenuti assieme. Dopodiché si guarda solo ed esclusivamente rispetto al video, consideriamo anche il fatto che ci sono due donne che tentano di rubare all'interno di un centro commerciale e due lavoratori che in modo assolutamente legittimo e sacrosanto esercitano un diritto che loro è consentito. Allora incriminiamoli per violazione della privacy, ma non per sequestro di persona perché in questo caso secondo me sequestro di persona non esiste sotto nessun punto di vista.